Dio è in quel migrante che tanti vogliono cacciare. Parola di Papa Francesco che durante l'Angelus di oggi ha parlato della fede ed è la necessità che questa venga accompagnata dalle opere. Fare opere buone, non solo dire parole che vanno al vento, ha spiegato il bar e il centro, non siamo noi stessi ma gli altri. Oggi affermo intanto i funerali di Emmanuel, il cittadino nigeriano colpito a morte dal 39enne Amedeo Mancini, ultra con convinzione di destra. L'uomo ammette di aver insultato per strada la moglie di Emmanuel e chiamandola scimmia africana. Ma su ciò che è accaduto dopo non c'è ancora chiarezza.